il capitolo sull'eutanasia paradossalmente anche se il tema non è allegrissimo perché parla di morte è quello che mi è piaciuto di più perché racconti la storia di tuo padre mi sono commossa ecco quindi ti chiedevo gliele hai dette queste cose davvero tutte è vero che non ce le legge ma sono stato un figlio molto molto problematico sbattuto la porta oggi l'ho anche raccontato mio amico carlo che conosce qualcuno che conosce mi ha conosciuto il momento in cui sbattevo la porta a 19 anni giovanissimo la casa dei miei genitori in conflitto con mio padre un conflitto che non si è risolto pienamente devo dire la verità però ricordo sempre con una benedizione il fatto che il 23 aprile 2016 tre giorni prima di morire l'ultimo atto che ha compiuto mio padre che non era particolarmente appassionato ai nostri temi lo dico francamente aveva quella fede era due volte laureato era molto colto però aveva una fede popolare piaceva pregare la mattina san giovanni ventitresimo davanti all'immaginetta aveva la fede della devozione quella che a me viene meno facile diciamo così e l'ultimo atto il 23 aprile è stato prendere con tutta la fatica della malattia che ormai lo erodeva e venire a firmare le liste del popolo della famiglia questo per me è stato un gesto di riconciliazione piena e lo ricordo con grande affetto così come ringrazio tutti gli amici poi morì appunto il 26 aprile noi eravamo dentro questo tritacarne infinito che era presentare liste può immaginare no? eravamo nati come popolo della famiglia l'11 marzo mio padre muore il 26 c'era da consegnare firme otto giorni dopo senza questo popolo che veramente si è stretto intorno a me in quel momento estremo non ce l'avrei mai fatta quindi grazie davvero a tutti di voi per quella per quella di qua della mente invece sul tema dell'entanasia che per fortuna non ha riguardato tuo padre cosa sta succedendo e perché io avanzo una ipotesi è che noi avendo tolto l'orizzonte soprannaturale la morte è solo un è una scocciatura è una cosa inspiegabile è solo male mentre per chi crede ha tutto un altro senso la domanda della morte però la dobbiamo affrontare tutti e noi abbiamo grazie a Dio veramente letteralmente abbiamo una risposta e chi non ce l'ha probabilmente preferisce rimuovere il problema in che modo in quali paesi e cosa sta succedendo in Italia sai Costanza io questo nodo in realtà l'ho vissuto anche con papà perché papà nella fase lunga della sua malattia estrema e con grande sofferenza più volte mi ha detto non ce la faccio più vorrei farla finita sta dentro la malattia è anche dell'uomo di fede voglio dire questo è forse l'argomento che ci interroga più di tutti perché chi ha attraversato la sofferenza la malattia e la morte sa che non è una passeggiata ideologica questa è qualcosa che è veramente carne e sangue e la morte non è bella non è dolce è che come detto te dobbiamo sapere che c'è dobbiamo evitare di cancellarla o capiamo moriamo anche se sono l'ultimo dei peccatori e indegno a dirlo ma parla di Dio dice che se tu espelli Dio dalla vita quello che accade è che sei un uomo senza radici e a quel punto può davvero come dice Dostoevsky essere lecito tutto e sta diventando lecito tutto il mio urlo su questi argomenti mi ricordo quando hanno ucciso DJ Fabbo io scrissi poche righe su facebook raccontando come funzionava tra il 1939 e il 1941 ritrovate il testo anche di non capiamo moriamo la prima sperimentazione dell'eutanasia che fu voluta da Adolf Hitler con la cosiddetta Action T4 eutanasia sui disabili e io feci questa notazione su facebook dicendo e paragonando i numeri che troverete paragonati qui non capiamo moriamo che almeno Hitler li uccideva gratis mentre adesso sono riusciti nell'orrore di costruire un business perché ogni volta che leggete che il tizio se n'è andato l'ultimo è questo ingegnere di Altavilla che ha preso e andato in Svizzera senza alcuna malattia a 62 anni perché è in condizione di fatica e perché è depresso e non aveva un amico che gli dicesse non farlo ma è andato in Svizzera all'associazione XY di Zurico quando è arrivato a Zurico non è che gli hanno fatto un atto pietoso perché erano amici gli hanno chiesto 15.000 euro che con i costi del funerale, di tutto il trasporto, i viaggi, andate e ritorno le documentazioni diventano 18.000 e io ho chiesto quando accadde la vicenda di DJ Fabio e ancora di più dopo questa vicenda dell'ingegnere ma sono ormai centinaia di italiani che fanno questa scelta volete una norma così? cioè quando Marco Cappato mi dice ecco qua l'ho portato in Svizzera ho fatto tutto questo ecco finalmente libero DJ Fabio la mia domanda a Marco Cappato lo troverete anche in una puntata in una sfida televisiva che andrà in onda tra qualche giorno la prima puntata a protagonista Costanza Miliano contro Odi Freddi tanto per capirci la seconda puntata sarà divertente applaudite e poi c'è la puntata di Nolfi Cappato io ho detto a Marco Cappato tu mi vuoi portare quando mi dici che hai fatto tutto questo e questo è bene mi vuoi portare in quell'orizzonte normativo? mi stai davvero proponendo la soppressione dei sofferenti di qualsiasi natura a pagamento? questo mi stai chiedendo? questa secondo te è una legislazione di civiltà e di progresso? questa è barbarie, è regresso, è violenza, è vergogna nei confronti di chi soffre ed è intollerabile che sia raccontata e narrata da un punto di vista mediatico come approdo progressista è incredibile che si riesca a concepire la mattanza e i numeri ritrovati non capiamo o moriamo è una mattanza dei sofferenti addirittura con un meccanismo mercantile quel meccanismo mercantile che fa sì che all'inizio di quest'anno una signora una mamma che aveva cominciato ad avere il suo passaggio in demenza senile ricoverata in una clinica viene ricoverata e comincia a diventare fastidiosa chi ha avuto in famiglia i malati di Alzheimer i malati di demenza senile sa che possono diventare fastidiosi nei contesti in cui vengono inseriti bene, il medico ha detto che 30 anni prima la signora aveva firmato un testamento biologico in cui aveva detto che in caso di condizioni estreme avrebbe voluto essere soppressa impugnando quel testamento biologico è andato nella clinica su istigazione dei parenti ha preso la signora con i parenti attorno i non capiamo o moriamo vi descrivo come funziona un meccanismo con cui si uccide un sofferente lo si uccide con un medicamento che si chiama pentobarbital il pentobarbital è un medicamento che serve a sopprimere i cavalli serve a uccidere i cavalli quando si azzoppano il corpo umano lo rifiuta lo vomita quindi il meccanismo provvede la somministrazione di un antiemetico per impedire il vomito dopodiché si dà la somministrazione di pentobarbital bene quando la signora ha avuto la somministrazione dell'antiemetico come risvegliandosi dalla sua demenza perché anche un'aracosta se la metti nella pentola con l'acqua bollente strilla quella signora ha detto mi volete uccidere mi volete uccidere perché il medico ha detto ai figli tenetela ferma i figli l'hanno tenuta ferma e la donna è stata uccisa in Olanda non è una storia inventata come al solito trovate tutte le fonti trovate i giornali di tutto il mondo che ne hanno parlato sapete perché? perché per la prima volta della storia dell'autonomia in Olanda il caso è stato portato all'attenzione della magistratura perché c'è una commissione che in Olanda è attenta a guardare tutti questi casi io leggendo la commissione è intervenuta ho detto finalmente almeno una volta la commissione interviene da quando c'era legge sull'autonomia in Olanda primo gennaio 2002 non era mai intervenuta solo in un altro caso questo è il secondo caso sapete perché è intervenuta? per mandare gli atti alla magistratura e dire legittimate i medici a comportarsi come questo medico questo è il dato signori è conseguenziale noi dobbiamo renderci conto che l'introduzione di queste norme produce fattori ed elementi conseguenziali se l'Italia apre i cancelli di questo inferno anche per le condizioni tragiche in cui versa il sistema sanitario nazionale almeno in metà del paese le conseguenze della mattanza dei sofferenti assumeranno proporzioni impensabili mi dà fastidio fare la Cassandra ma finché avrò fiato in gola griderò su questo orrore anche perché spiegava mi sembra Renzo Puccecchi un medico che nel 60% dei casi se uno anche nelle stesse condizioni di salute viene invitato a prendere una decisione sul testamento biologico a distanza di magari di un anno è frequentissimo che cambi idea cioè perché uno può essere in uno stato d'animo in una condizione di vita diversa e quindi l'idea il fatto di cambiare idea dovrebbe essere almeno previsto per quello noi siamo contro comunque qualsiasi forma di testamento credo che l'eutanasia tra l'altro sollevi cioè tuo padre non l'ha fatta finita perché c'era intorno delle persone che l'hanno sostenuto nella sofferenza perché solo la compagnia ti può credo dare la ragione di continuare a stare in una sofferenza e quando c'è qualcuno intorno che ti dice che tu sei che sei importante che vale che tu ci sia anche in quella condizione allora vale la pena la sofferenza assume anche forse un senso comunque più sopportabile se intorno tutti ti dicono che sei un peso probabilmente quindi la non eutanasia ci impegna tutti a essere a sostenere i nostri malati i nostri anziani un altro dei tanti dati che ho letto qui e che non conoscevo è che siamo come italiani in cima alla lista dei turisti sessuali a sfondo pedofilo che è una cosa che mi ha sconvolto siamo quindi il paese più pedofilo del mondo secondo il rapporto di ECPAT e questa cosa mi ha sconvolto e mi sconvolge anche l'idea che possano cambiare le leggi in Italia anche su questo tema cioè dalla legalizzazione dell'incesto all'accettazione della pedofilia che sta succedendo mentre ero parlamentare della sedicesima legislatura mi si avvicinano due colleghi del gruppo del mio gruppo ero nel partito democratico poi mi vado a confessare qua alla fine sono venuti vicini e mi volevano far firmare questa proposta di legge vi dico che il parlamentare di solito firma senza guardare quando arriva fai l'ottavo firmatario vabbè è una cortesia che fai è il tuo gruppo ti fidi non ti conoscevo il signore mi ha illuminato proprio quella volta ricordo che il titolo era un po' confuso sono andato a leggere bene la relazione introduttiva che ogni parlamentare deve presentare una relazione introduttiva alla proposta di legge che presenta e c'era scritto testuale che era necessario rimuovere le normative che condannavano sul piano penale l'incesto io dicevo ma che cavolo di priorità come fa un parlamentare venire in mente di considerare prioritario l'elemento di cancellare l'incesto dal codice penale e lo sono andato a approfondire e nel libro trovate insomma non erano due pazzi isolati questi c'è una cultura europea che vuole andare oltre l'incesto che parla di diritto alla sessualità dei minori di 12 anni che vuole arrivare a una legalizzazione della pedofilia esattamente col percorso la finestra di Overton che è stata aperta e spalancata sul vuoto con altri argomenti è lo stesso identico percorso ci vorranno convincere se ci convincono che ha un ragazzino di due o di quattro anni puoi diagnosticare la condizione di essere transgender e a 9 gli puoi fare l'iniezione di ipotalamico blocchiante e a 11 fargli gli estrogeni per fargli crescere le dette pensate che siamo molto lontani se vince quella cultura di quel consigliere regionale lo ripeto non è un passante come non erano passanti quei due erano due senatori che vengono e arrivano queste proposte e se tu dici mezza parola ti arriva pure il rimbrotto che non sei abbastanza progressista essendo io seduto nei banchi di sinistra allora nel Parlamento il rimprovero era di quella natura io sono fido due volte ai propri fili del Partito Democratico che sarebbe il Tribunale Interno accusato di omofobia perché dicevo che i figli nascono da una mamma e da un papà anche allora ero convinto non ho cambiato diciamo due volte a processo per omofobia perché purtroppo la prassi di alcune riflessioni che hanno perso qualsiasi orizzonte escatologico che era da dire la sinistra ha perso a livello mondiale il sogno della rivoluzione e ha dovuto riempire la depressione conseguente alla perdita di quel sogno con è l'intuizione di Augusto Del Noce quel radicalismo quell'idea di partito radicale di massa che applica questo tipo di idee di autodeterminazione estrema noi dobbiamo su queste cose i libri di Fabio Torriero fatemelo salutare qui in prima fila il direttore di Intellico News anche il nostro amico spiegano che abbiamo una responsabilità determinante da cattolici in politica per dire ragazzi stiamo davvero andando oltre e non stiamo agitando lo spauracchio stiamo raccontando purtroppo comportamenti che ci sono e quanto al turismo sessuale mi sono dovuto trattenere con una mano dietro la schiena perché potremmo fare nomi e cognomi di importanti esponenti politici che fanno parte di quella percentuale che rende così orrenda la parola Italia nel rapporto ECFAT nel capitolo successivo parli di quattro bombe su cui siamo seduti che insomma non è proprio rassicurantissima come immagini in particolare volevo farti una domanda sulla bomba religiosa identitaria se vuoi spiegarci che cos'è io volevo dire solo la mia piccola notazione è che il fatto che abbiamo ci siamo sbarazzati di Cristo e quindi conseguentemente dei valori che il cristianesimo ha portato io la vedo anche come un'occasione per perché il piccolo resto di Israele del quale speriamo credo vogliamo con tutto il cuore appartenere si rimpossessi dei valori con più consapevolezza io normalmente la parola valori mi fa venire un po' all'orticaria cioè io non credo nei valori credo in una persona che spero di avere incontrato e di continuare a incontrare no? sempre di più e che dà poi il senso a tutto il resto forse per tanta parte la società borghese per molto tempo ha aderito a certi valori non perché discendevano da un incontro ma perché diciamo proposti o imposti da un esoscheletro che oggi non c'è più ecco forse il crollo di questo scheletro può diventare un'occasione per riappropriarci di quell'incontro di quella proposta tu che ne pensi? sì è una riflessione che è dentro il libro peraltro io indico nel recupero di una nostra dimensione identitaria la via d'uscita possibile da da questa condizione non posso non segnalare questo lo dico con chiarezza che tutto ciò che abbiamo detto fino a ora tutti gli elementi che ho portato alla vostra attenzione che sono descritti molto analiticamente e non capiamo o moriamo costituiscono la deflagrazione prossima avventura di una cultura che non io ma persino dei pensatori dei filosofi marxisti atei come Michel Onfray Michel Houellebec che sono citati in questo libro definiscono la fine della società occidentale perché ha abbandonato la radice giudaico-cristiana non lo dicono più paradossalmente i cattolici questo è impressionante ma se leggete Decadence di Michel Onfray uno dei libri più importanti negli ultimi anni in Francia o lo stesso Houellebec che è più una narrazione ma troverete che la riflessione di questi pensatori che vengono da lontanissimo è tutta dentro la perdita di Dio la perdita del rapporto radicale con Cristo del rapporto che sa far innamorare un giovane di Cristo e che su questo riesce di conseguenza a produrre una radice che lo salva noi dobbiamo pensare a questo i nostri ragazzi senza Cristo sono perduti è questo l'elemento cruciale vorrei dire della riflessione di Occapiamo Moriano perché la proposta che riceveranno e che stanno ricevendo è la proposta di un qualche altro radicalismo che può essere il radicalismo del comportamento della libertà oscena del rapporto con le sostanze della droga dell'alcol che vengono citate guardatele quelle statistiche perché sono impressionanti amici miei non bisognava saltarli i numeri no bisognava no vabbè se no non lo comprate più allora comunque ho tanti numeri che raccontano i numeri non sono messi là a caso non volevo fare lo sfoggio di l'udizione perché io anche Mario Bravo a tirare fuori dei dati se io oggi allarmo su alcune questioni che riguardano la presenza degli immigrati nel nostro paese mettiamo i piedi nel piatto e anche perché purtroppo nel parchetto sotto casa la gestione del traffico di droga che è composto da cannabis che è composto da oppiacei che è composto da MDMA da droghe sintetiche e da cocaina è in mano a una comunità specifica i marocchini i tunisini gli algerini gli egiziani 98% andate a guardare i dati della popolazione carceraria in questo libro sono i dati della popolazione carceraria al 31 dicembre 31 luglio 2017 forniti e anzi rubati ve lo dico chiaramente al ministero della giustizia cioè al mio amico Andrea Orlando e andrete a vedere che nella popolazione carceraria straniera 19.000 unità la stragrande maggioranza è composta da islamici se tu metti insieme i cattolici i protestanti i testimoni di Geova gli ortodosti quindi ha compreso tutti gli slavi i buddhisti e tutte le religioni messe insieme non fanno la presenza islamica nelle carceri sapete dove vengono tutti i ragazzi di 20 21 22 23 25 anni che hanno travolto i ragazzi e anche italiani a Barcellona che hanno travolto a Nizza che hanno acceso la bomba metropolitana di Londra che hanno ucciso al Bataclan vengono tutti dalle carceri qualche volta addirittura dalle carceri italiane noi siamo seduti su quattro bombe questi ragazzi Costanza sono pronti a uccidere e a morire per la loro fede o non sono dei fissati con la religione fino a un certo punto eh andate a vedere proprio i profili le biografie entrano in carcere perché magari spacciavano nel parchetto sotto casa lì vengono radicalizzati e utilizzati adesso da racca arrivano le indicazioni a usare gli adolescenti libertà è solo in Cristo nel cristianesimo nella dimensione di ispirazione cristiana riceve pienezza e nel libro non ha chiaro le citazioni che metto su questo argomento non sono dai Vangeli sono da Benedetto Croce e ad Antonio Conte per farvi capire insomma perché l'esperienza personale anche di persone sono lontanissime da ciò che siamo noi in questo momento è quella di dire senza il cristianesimo salvezza non c'è sì ma qualche altro maestro di fede lo potevi trovare Antonio Conte come maestro di fede è una provocazione per Danilo Leonardo insomma molti mi hanno sottolineato questa scelta cioè non so un San Tommaso un San Benedetto Antonio Conte l'emergenza migratoria che è in parte cominciato a toccare hai immaginato un questionario interessante quindi va bene accogliere ma ci devono essere delle condizioni a parte che ricordi come sarebbe necessario andare nei paesi e costruire infrastrutture classe dirigente veramente per loro con una metà non colonialista ma cristiana ma questa cosa del questionario è interessante sì è anche abbastanza provocatoria perché è impensabile oggi questa proposta ai tempi dello Iussoli è ma di noi il questionario fascista qui si propongono Iussoli in un territorio scusatemi sono noiosissimo con i numeri però vi ho detto prima che abbiamo perso Bologna contemporaneamente i tanti colleghi di Nicola Di Matteo cioè le persone che vivono in polizia e stanno all'ufficio passaporti hanno dato 205.000 nuove cittadinanze nel solo 2016 a cittadini stranieri vuol dire che noi abbiamo operato una sostituzione abbiamo tolto Bologna fatta di italiani e ci abbiamo messo 205.000 che non sono neanche più stranieri che sono italiani adesso con un tasso doppio rispetto ai territori tipo Germania Francia che hanno popolazione straniera doppia se non tripla rispetto all'Italia cioè la Germania ne fa 100.000 noi ne facciamo 205.000 e allora propongo il questionario che è una provocazione ma la riflessione è invece su questi dati vogliamo procedere per sostituzione io lo dico quello che abbiamo raccontato fino ad adesso Costanza dimostra un vuoto valoriale aborto eutanasia utero in affitto è il racconto di un vuoto adesso con queste cifre cerco di rappresentarvi il vuoto fisico ok perdiamo veramente fisicamente centinaia di migliaia si crea un vuoto in fisica i vuoti vengono riempiti e il vuoto valoriale verrà riempito da altri valori e il vuoto fisico viene riempito già ve lo spiegano quando vi dicono vi pagheranno le pensioni vi stanno indorando la pillola per procedere alla sostituzione vi pagheranno le pensioni prendendovi il lavoro le case beh che funziona così allora noi dobbiamo avere chiaro questo elemento non è un approccio di natura xenofoba non appartiene alla cultura del popolo della famiglia le domande sono sul rispetto comunque non sulla obbligo di aderire ma se a scuola chiedono perché purtroppo ho avuto un dibattito una violenta discussione su questo argomento pezzino con un iscritto al popolo della famiglia pensiamo un po' mi chiedono di togliere il crocifisso dall'aula io faccio un personaggio presupposto in cui gli chiedo che se vuole venire in Italia deve accettare i simboli che sono propri della nostra tradizione religiosità insomma il minimo noi siamo così fazzi così fazzi da fare e procedere al tasso di sostituzione 300.000 mettiamo i 205.000 e poi a Natale non facciamo più la recita con i bambini perché altrimenti si offendono e guardate bene che gli ultimi a offendersi sarebbero loro perché loro pretendono una dimensione reale identitaria della tua realtà della tua fede altrimenti i dati che ho provato a testere nell'ultima puntata di Stampefangelo grazie a tutte le migliaia di persone che hanno visto l'ultima puntata semplicemente perché il primo minuto l'ho fatto Silvia ho visto che i dati sono stati picco clamoroso d'ascolto grazie in questa in questa puntata vi ho fatto non sono arrivato il libro dovevo andare in stampa ma c'era una statistica un sondaggio di PR Marketing che dice chiaramente che il 53% di questi immigrati non parla la nostra lingua il 92% degli over 54 non vuole integrarsi vive solo nella comunità istanica e vuole amici italiani e rispetto alle figlie femmine il 41% dichiara che non accetterebbe una figlia laureata e il 51% dichiara che non l'accetterebbe fidanzata con un ragazzo cattolico signori questi sono dati sono numeri l'approccio nostro è di natura cristiana non negheremo mai la forma e l'accoglienza a il disperato che viene incontro a noi con la condizione della disperazione ma a il Magistero della Chiesa devo dire egregiamente tratteggiato in quel lavoro che poi trovi nel capitolo 14 che è il compendio del compendio della dottrina cristiana che vi voglio rendere grazie a Giuseppe Brienza se l'ho visto da qualche parte c'è Giuseppe eccolo qui e con Alessandro Semini la scritta dell'antitrave naturalmente il popolo la famiglia ricorda da Giovanni Paolo II a Benedetto XVI che il primo diritto che da cristiani dobbiamo tutelare è il diritto del cittadino a non migrare perché estirpare una persona da casa sua è comunque una grave violenza e se poi arrivano perché arrivano inevitabilmente attraverso quei viaggi terribili solo maschi adulti giovani noi abbiamo tolto a quelle terre l'unica possibilità di riscatto e di salvezza perché hanno perso le possibili classi dirigenti del riscatto di domani e noi di questo dobbiamo essere consapevoli non lo diciamo in termini non siamo davvero i leghisti va così la semplici la semplifico siamo persone che hanno scritto un capitolo che dice aiutare davvero gli ultimi della terra perché questo è quello che ci sta a cuore ma davvero è l'accento l'accento è su davvero non accetteremo questo no la condizione le quattro bombe hanno anche a che fare con la criminalità la strumentalizzazione del corpo della donna la gestione del racket della prostituzione la criminalità il terrorismo che va in prima pagina sui giornali non è il peggiore dei drammi in questa fase noi saremo colpiti il terrorismo è una delle quattro bombe ma saremo colpiti dal flusso demografico perché le curve dicono che le donne musulmane fanno 2,1 figli per donna in Italia e 2,9 nei loro territori mentre noi li facciamo 1,2 e dunque inevitabilmente le curve demografiche dicono che ci sopravanzeranno c'è un pericolo oggettivo sulla criminalità c'è un pericolo oggettivo sull'identità ho messo in un riguadrino di quelli che piace fare a me su questi libri da ricordare schifo così il numero dei foreign fighters gente davvero pazza ma non 1,2,3 o 5 nostri ragazzi che prendono e vanno a combattere in Siria per l'ISIS insieme a questi ho messo i numeri della capacità islamica di fare fedeli che crescono in Italia i numeri crescono mentre noi non possiamo fare proselitismo allora questi elementi io li considero preoccupanti li indico come quattro bombe dico che dobbiamo dare delle risposte concrete e chiudo qui se la politica a cinque mesi dalle elezioni vuole varare una norma sullo iussoli e lo dico anche agli amici di Avvenire e così come a segmenti della gerarchia ecclesiastica verso i quali noi siamo estremamente rispettosi ma ci prendiamo la libertà di avere anche una nostra coscienza e dunque di dire quello che pensiamo se volete fare una legge sullo iussoli mancano cinque mesi alle elezioni mettete lo iussoli nei vostri programmi di governo e lo sottoponete al giudizio dei cittadini vedremo noi proporremo la nostra ricetta proporremo il questionario proporremo l'identità proporremo l'idea della radice giudaico-cristiana al fondo di ciò che siamo abbiamo ancora dieci minuti quindi due domani intanto qui c'è un utilissimo elenco di tutti gli ultimi attentati che noi tentiamo non so se anche voi io tendo a rimuovere perché preferisco forse non pensare o comunque ti volevo chiedere dopo ogni volta che succede si nota una certa reticenza da parte dei media forse da tutti di accennare alla matrice islamica dell'attentato perché diciamo nella volgata tutte le religioni sono uguali non si può per esempio è politicamente scorrettissimo dire che nel DNA cristiano non c'è questa matrice e se qualcuno dice e allora le crociate tiriamo una scarpa ovviamente sì appunto no ero ero ironica perché ogni volta che si affronta l'argomento fuori la risposta è e allora le crociate qui per fortuna quindi c'è una matrice di violenza e bisogna capire quanto radicata quanto solo nelle parti più radicalizzate nel fondamentalismo secondo te perché c'è questa reticenza sulla raccontare l'islam in un certo modo e come stanno le cose la reticenza è dovuta spesso a una profonda ignoranza una profonda ignoranza della nostra classe la classe giornalistica italiana che non conosce gli aspetti religiosi della questione che io ho provato a inserire anche nel libro io per tutto quel discorso straordinario fatto da Papa XVI da Papa Benetto De Gino alla Lisbona che è un discorso che non è stato preso benissimo però che però aveva capito tutto che però aveva capito tutto riusciva a fare diagnosi a somministare farmaci a dare la soluzione allora io ho questo atteggiamento ho imparato a non lamentarmi mai ah ma i giornali non lo scrivono ah ma in televisione non vi fanno andare non mi lamento però ogni volta che accade tanto accade guardate l'elenco vi impressionerà perché vi siete già dimenticati di attentati terribili che sono successe sei mesi fa che questi sono stati così pazzi da andare a Manchester quattro mesi fa a farsi esplodere dentro a un concerto dove c'erano solo bambini ragazzini minori di 18 anni ma già abbiamo rimosso tutto già abbiamo rimosso tutto l'immagine di Aylan giustissimamente ci ha ferito il bambino che arrivava no morto l'immagine del bambino travolto a Barcellona l'hanno oscurata non bisognava vederla l'immagine là ma perché secondo te perché per giustificare i giornali che ci spiegano quanto è bello lo you soul quanto è bello il tasso di sostituzione come è bene abbattere i cristiani e sostituirti con qualcun altro devono far sì che tu accetti tutto questo subitamente e guardate questo è un male persino per l'islam io non posso dimenticare che subito dopo uno di questi attentati venne chiamato stranamente a fare una puntata di ballarò con un imam intelligente l'imam pallavicini con gadlerner meno intelligente io ci andai provocatoriamente ma non esplicitamente non facendolo in maniera plateale con un rosario a farmi dare la forza il regista della trasmissione scovò attorno al braccio un piccolo rosario colorato e lo inquadrò con la sua insistenza io credo che noi davanti a costoro dobbiamo presentarci con le insegne della nostra identità è l'unica maniera che abbiamo per ottenere il loro rispetto se noi caviamo le bracche su questo punto noi otterremo semplicemente il loro disprezzo non abbiamo capito che il meccanismo non è cancellare la pensione pasquale nelle aule dei nostri figli è invitare anche loro ad essere presenti affinché guardino la nostra fede questo è quello che dobbiamo chiedere questo è quello che chiederemo questo è quello che ci connoterà senza atti di supremazia senza atti violenti ma ribadendo un dato identitario che non può essere eradicato dal nostro essere direi che possiamo chiudere con un'ultima domanda con le notazioni positive che metti in questa foto non proprio a tinte diciamo rosa però hai fatto alcune notazioni positive di alcune cose che danno segnali contrari per esempio il fatto che nell'ultimo dibattito preelettorale tra Trump e la Clinton probabilmente quello che fece cambiare le cose è stato il fatto che la Clinton si sia esposta chiaramente a favore dell'aborto post nascita e questo ha spostato dei voti perché ancora in realtà tra l'elite si vede bene qual è il disegno ma probabilmente il popolo non è tutto conquistato e c'è anzi qualcosa resiste poi citi il caso della Polonia quali sono insomma la nuova Ostpolitik del Vaticano quali sono le note positive a parte che noi sappiamo che chi ha vinto la storia insomma quindi diciamo che il lieto fine è assicurato ma ci sono anche già dei segnali no? Sì il libro sembrava sennò troppo attinte fosche ragione brava Costanza che dice ma il pancio il libro non dice moriamo dice o capiamo allora noi dobbiamo capire che siamo a un bivio e non c'è una sola direzione da prendere non c'è da una sola parte i popoli stanno scegliendo anche altro ed è meraviglioso è bellissimo pensate al messaggio di speranza racchiuso dal documento firmato da Papa Francesco con il padrarca Kirill delle Russie a Lavana pochi mesi fa leggete i passaggi sulla famiglia li trovate e non capiamo o moriamo guardate che bellezza che prospettiva che sguardo di lungo periodo guardate il sostegno che una leadership importante come quella di Vladimir Putin dà a queste opzioni avanzate da Kirill e dalla chiesa ortodossa russa è un elemento che ci interessa ci sfida non è tutto bello non solo un pugniano ma voglio guardare voglio capire e vedo questo e ve lo vedo buono guardate il referendum in Slovenia dove l'impegno dei vescovi cattolici ha fatto sì che fosse cancellata la legge sul matrimonio omosessuale con l'impegno dei cattolici in politica in un momento referendario abbiamo vinto guardate i cattolici della Croazia che hanno fatto mettere in riferimento costituzionale il matrimonio comunione tra un uomo e una donna guardate i cattolici che si battono contro il trasferimento di massa degli islamici nel loro territorio guardate i cattolici polacchi che hanno mandato al governo delle forze che sono contro l'aborto e per questo pagano quotidianamente l'attenzione ostile delle burocrazie dell'Unione Europea guardate che non c'è una sola strada noi abbiamo questo lo chiamo sconfittismo cattolico l'idea che ormai sia già andata abbiamo già perso oddio sono arrivati da noi in tutto e noi ci diciamo da una parte aspettiamo i tempi migliori è il tempo del combattimento ma perché io devo ascoltare da Donald Trump e non da un leader politico italiano cattolico battezzato da Donald Trump devo ascoltarlo in piazza Krasinski a Varsavia lo scorso 3 luglio alzarsi alzarsi e dire voi siete una nazione che è rinata perché avete gridato nel momento della notte noi vogliamo Dio guidati da un grande uomo che si chiamava San Giovanni Paolo II ma perché non deve dire Trump e non noi perché la mia proposta è una proposta per l'Italia la nostra proposta capito 14 è una proposta per l'Italia c'è una possibilità reale concreta la partita non è persa è difficile volete mi dire che sia facile è difficile ma io chiedo a Costanza Miniano di fare da testimone quando noi cominciamo a pensare di mettere insieme qualche ragazzo ragazza amico per fare un'iniziativa per contrastare la legge Cirinà potevamo pensare che tre mesi dopo eravamo a Piazza San Giovanni ma che fai il 13 giugno dico ma non lo so farò un dolce a Sant'Antonio no ti va di venire con 15.000 persone al Palano Automatica dico no no io non c'ho paura di tutta quella gente poi vabbè è nato il Family Day io andai a buttare una medaglia miracolosa come faceva madre Teresa quando lei vedeva un terreno che serviva per i suoi poveri malattici buttava una medaglia e a lei glielo regalavano perché lei era santa e allora il giorno dopo e questa pazza proposta che mi aveva terrorizzato andai a buttare una medaglia miracolosa al Palano Automatica e poi insomma ne è venuto fuori ci incontrammo ci incontrammo nel giorno di giugno sul palco mi ricordo dopo che era stato quel diluvio che tutti voi ricordate tra i libri avevamo i nostri figli e lì pioveva in maniera assoluta diciamo con la grandinata ci ritrovammo poi proprio con Costanza con Gianfranco Amato con Nicola Di Matteo che aveva fatto la fatica fisica di organizzare il Family Day e mai sarà abbastanza ringraziato per questo ci troviamo insieme a questa moltitudine impensata e impensabile e abbiamo detto tre parole è un miracolo è un miracolo ma è successo l'avete fatto accadere voi è successo perché avete capito che eravamo in una condizione di rischio assoluta vi siete alzati in piedi avete risposto sia una chiamata e oggi continueranno a dover fare i conti con noi grazie grazie davvero amici miei grazie grazie a Costanza Miliano grazie grazie davvero a Costanza allora una foto tutti insieme è un grandissimo grandissimo non è sufficiente l'applauso è gratuito facciamo sentire noi il popolo della famiglia che crediamo che noi abbiamo capito non vogliamo morire vogliamo capire che quello che ci ha detto Mario e la nostra amica Costanza noi ci crediamo grazie di cuore Mirko facciamo una foto di Franz grazie a tutti